Siamo qui con l'avvocato Pasquale Carbone, militante da anni nel mondo della politica, ex sindaco, che ha scelto oggi di seguire e appoggiare la candidata alle prossime elezioni regionali, Caterina Sagliano. Perché questa scelta? Ma intanto è una scelta di territorio, è una scelta che onora il territorio e per me è una scelta obbligata, perché trovare una persona come Caterina, che da sempre lavora per il sociale, da sempre ha idee innovative, ha idee proprio di coerenza, di amore per il territorio, è per me motivo di orgoglio. Ed è ciò che ha motivato il mio ritorno in questo impegno momentaneo alla politica, perché come lei ben ha detto, io sono stato sindaco e sono sette anni che sono assolutamente lontano e distante dalla politica per aver deposto da tempo ambizioni, veleità o altro per quanto concerne i miei impegni personali in politica. Ho ritenuto che essere doveroso dare il mio contributo fattivo alla candidatura di Caterina, perché Caterina va ringraziata, va ringraziata per quello che rappresenta per il territorio, per quella che sarà in grado di offrire al territorio, ma non solo limitato al Comune di Marcellino, ma all'intera provincia di Caserta. Caterina è una risorsa, è una risorsa preziosa del territorio e insieme a lei faremo, penso possiamo fare grandi cose, grandi cose che assicurano sviluppo, innovazione, dedizione al sociale, rinnovamento per il green che tanto si decanta e va di moda, ma che Caterina incorpora nel suo programma e che mi retrasse certamente il suo sostenitore fino alle sue elezioni regionali. Dopodiché ritornerò ad essere un cittadino di San Marcellino, cosa che ho fatto negli ultimi sette anni. Dall'alto della sua esperienza, qual è il vantaggio di candidarsi alla sola età di 23 anni? Il vantaggio a mio avviso non va inquadrato nell'ottica del vantaggio, perché se Caterina avesse fatto un ragionamento in termini di vantaggio io penso che non avrebbe dedicato o offerto la propria disponibilità a questa avventura. Il vantaggio a mio avviso si concretizza in quello che è l'amore per la politica, l'amore per il territorio, l'amore per le cose che si fanno e l'amore per quello che uno ritiene possa dare alla gente e soprattutto per chi ha la sensibilità di avere questi valori che può offrire alla gente e che si ha la consapevolezza di avere solo se si vive per la gente. Grazie